qui veramente anche se molti di voi già sanno la maggior parte delle cose veramente partiremo proprio dalle basi e da zero per fare un discorso generale sulle vertigini proprio per capire come si arriva poi dal capire cosa è la vertigine fino alla terapia ok quindi cominciamo con la definizione di vertigine ed è già importante capire questo la vertigine è una falsa, illusoria, non reale percezione di movimento dell'ambiente rispetto al corpo e o perché ci possono essere anche tutte e due del corpo rispetto all'ambiente cominciamo subito quindi a dire che non è vertigine tutto quello che avete un po' tutti quanti quelli che hanno vertigini perché sono diversi fenomeni che possono associarsi ma che non corrisponde a una percezione soggettiva di una variazione di metricolarità dei rapporti tra lo spazio circostante e il proprio corpo quindi cominciamo subito a dire che cosa non è vertigine la vera instabilità che si può avere con effettivo sbandamento ci può essere ma non è vertigine quindi quando parliamo di vertigine non parliamo di quello è un sintomo che si associa è la stessa cosa quando parliamo di acufeni di confondere l'acufene con la fulnes o l'acufene con l'iperacusia o la fulnes colludito attenzione che sono sintomi diversi che seguono ragionamenti diversi quindi non è vertigine la vera instabilità se avete un vero sbandamento che effettivamente dall'esterno si vede che state sbandando ci può essere ma non è quello che stiamo chiamando vertigine la caduta brusca che qualcuno può avere non è vertigine ci può essere è legata all'orecchio di sicuro ma non è vertigine la sensazione frequentissima di sordimento ubriacatura, confusione mentale non è vertigine la nausea, il pallore, la tachicardia le variazioni della pressione tutto quello che volete la sudorazione non è vertigine la kinetosi ovvero il mal di viaggio il mal di macchina che viene dall'orecchio che peraltro so anche trattare molto bene se uno ci avesse quel tipo di disturbo l'abbiamo parlato diverse volte del fatto se dovrei in qualche maniera allargare le indicazioni della mia terapia e quindi in qualche maniera pubblicizzare anche la mia terapia per altre cose però la kinetosi viene dall'orecchio ma non è vertigine perché manca ci sono solo i fenomeni reagitativi e manca la vera vertigine l'acrofobia quella che volgarmente viene chiamata vertigine soffro di vertigine perché quando vado in alto guardo in basso non è vertigine che cos'è allora vertigine? è vertigine quello che è la sensazione che comporta una percezione soggettiva di variazione i rapporti al spazio circostante e al proprio corpo quindi che cos'è la vertigine? fondamentalmente poi dobbiamo raccomparla in tre tipi di percezioni diverse erroneamente vengono chiamate vertigine oggettiva e vertigine soggettiva perché poi se andiamo a vedere sono tutte soggettive rapportato agli acufeni ad esempio dove si distingue acufeni soggettivo e acufeni oggettivo che poi acufeni non è oggettivo significa che qualcun altro lo può percepire soggettivo che solo noi possiamo percepire la vertigine è qualcosa che solo noi possiamo percepire non la può percepire qualcuno dall'esterno si può percepire lo sbandamento si può vedere che stiamo vomitando tutto quello che volete ma la vertigine è sempre una percezione soggettiva erroneamente sul termine oggettiva e soggettiva per dire è il soggetto cioè io paziente che mi sposto però la variazione rispetto all'ambiente varia perché sono io che cambio rispetto all'ambiente che invece sta fermo oppure è l'ambiente che si muove rispetto a me che sto fermo per tantissimi anni io ancora mi ricordo un convegno era il 90 una cosa già non mi ricordo 93 forse non mi ricordo quando ho sentito dire ancora le vertigini oggettive vengono dal labirinto le vertigini soggettive sono neurologiche non esistono vertigini neurologiche perché come vedremo poi il sistema nervoso non è in grado di prodursi da solo la sensazione di vertigine che arriva solo da un'informazione periferica sbagliata quindi quando parliamo di vertigine oggettiva vertigine soggettiva non possiamo assolutamente utilizzarle per identificare la sede di provenienza della vertigine che poi è sempre l'orecchio perché al volo a volte abbiamo una vertigine oggettiva e perché a volte una vertigine soggettiva perché ci sembra a volte che sia il nostro corpo a muoversi e altre volte che sia l'ambiente circostante a muoversi escluso momentaneamente il disequilibrio soggettivo con un tipo di vertigine soggettiva particolare se ci fermiamo proprio all'attacco acuto mi sembra disbandare o all'attacco acuto mi sembra che si muova l'ambiente attorno vedo la stanza girare è probabile non posso metterci la mano sul fuoco e questo derivi in realtà dalla velocità del movimento cioè da quanta è l'alterazione se voi avete il classico esempio che si fa se avete presente quando state fermi in una stazione avete un altro treno accanto e non avete quindi nessun riferimento visivo della stazione all'inizio se il treno si sta muovendo avete il treno accanto e si sta muovendo potreste avere la sensazione che siate voi a muovere quando poi il treno si è andato e vedete che la stazione sta ferma lì capite benissimo che in realtà era l'altro che si era mosso e non voi ma se questo avviene in maniera veloce non in maniera lenta potreste avere la sensazione di cioè voglio dire se avviene in maniera veloce avete una sensazione oggettiva se avviene in maniera invece molto lenta potreste avere la sensazione soggettiva cioè che si è voi a muovere quindi è probabile che un eventuale tipo di stimolo minore cioè in particolare potremmo dire che le vertigini soggettive sono quasi sempre una variante più leggera come intensità di una vertigine oggettiva però non è una regola generale diciamo che vale come regola con delle eccezioni il disequilibrio soggettivo è un discorso particolare è un disturbo diverso ma che è comunque una vertigine oggettiva cioè si ha la sensazione di un'alterata posizione del nostro corpo nello spazio ma ci ho anche aggiunto una cosa che normalmente non dico ma l'ho aggiunto stavolta di fatica nel mantenere l'equilibrio che però non corrisponde all'estabilità vedremo poi che sul disequilibrio soggettivo c'ho qualche elemento nuovo di ragionamento su un tipo di disturbo che mi è capitato anche a me di avere non sono l'unico ci hanno avuto diversi pazienti che è quello della sensazione che un lato sia più pesante dell'altro cioè come se io mi rendo conto che non sto sbandando a sua mente non ho in realtà nessun disequilibrio a quel momento ma ho la sensazione che in qualche maniera il mondo si è inclinato o che è la versione oggettiva o la versione soggettiva è che il mio peso di un lato rispetto all'altro sia diverso io ho detto ce l'ho avuto pure io perché in realtà tutti questi disturbi ho avuto 5 attacchi di vertigine molti lo sanno ma roba del 2005 non ho mai avuto nemmeno uno dopo ho avuto un disequilibrio che secondo me l'ho battuto a tutti quanti voi come intensità nel senso veramente sono stato malissimo per tre mesi mi era un periodo di stress incredibile la mia vita e tutto quanto poi dopo la cosa è passata e ancora oggi ho qualche minima occasionale alterazione se mi alzo di scatto della quale non me ne frega assolutamente niente come insegno a voi di solito a fregarve andiamo avanti come va interpretata la vertigine per capire come dobbiamo agire dobbiamo capire come va interpretata la vertigine la vertigine è il risultato di un'alterata informazione che giunge al cervello circa l'effettiva posizione della testa rispetto allo spazio circostante o circa l'effettiva ampiezza o velocità del movimento effettuato perché dobbiamo considerare che esiste nell'ambito statico nell'ambito dinamico la crisi acuta di vertigine classica quella di giro tanto la testa attorno è un movimento che uno può stare perfettamente fermo ma la vertigine ad esempio posizionale quelle diciamo conosciute come vertigine da autolitio da sassolini sono legate al fatto che io faccio un movimento e la percezione che il cervello ha di quel movimento è sproporzionata rispetto all'effettivo movimento per cui io mi sono mosso di 5 gradi e il cervello lo interpreta come se si è mosso di 25 magari capite cosa voglio dire questa è una una diapositiva che già presentai nella prima videoconferenza abbiamo fatto a gennaio quella generale dove riassume un pochino come facciamo a stabilire da dove devono venire le vertigini ora voi sapete benissimo che c'è un'odissea un calvario che il paziente ha un vertigine perché praticamente si esamina tutto il corpo si gira tutto quanto per andare a vedere ma tutte le vertigini di questo mondo che siano una che siano tante e così via vengono solo ed esclusivamente da un'alterazione dell'input del labirinto posteriore che è l'unico organo che è il compito di informare perché perché se voi prendete l'esempio messo sotto nella figura del computer cioè quindi l'unità centrale la tastiera il mouse lo schermo la stampante come uscite come output è tutto un problema legato all'input perché in realtà se io ho un problema legato all'output cioè alla risposta cerebrale ho una vera instabilità non ho una vertigine da questo punto di vista dovete immaginare un pochino come se io adesso do un comando alzate tutti quanti la mano sinistra qualcuno non sente proprio il comando perché oppure io non dico niente non arriva proprio la mia voce qualcuno capisce il comando ma alza la mano destra invece della sinistra qualcuno non è in grado di alzare la mano la mano sinistra perché c'è una paralisi a mano sinistra e quindi uno non ne alza nessuno alza la destra capite cosa intendo io per input elaborazione e output io vi do un'informazione voi la elaborate ed eseguite il comando questo è quello che avviene normalmente con le vertigini perché poi vedremo a che cosa serve l'apparato vestibolare questi input vengono si dall'orecchio ma di tutto l'orecchio non possono venire dall'orecchio esterno che non c'ha nulla a che vedere con l'apparato vestibolare non possono venire dall'orecchio medio non ha nulla a che vedere vedete che c'ho messo una bella X e nell'ambito dell'orecchio interno non c'entra niente la coclea perché in realtà l'orecchio interno è come se fossero se fosse l'unione di due partner che hanno una anatomia simile ma una funzione completamente diversa l'uno con l'altro cioè l'udito e l'apparato vestibolare cioè la sezione dedicata all'equilibrio sono insieme ma non hanno assolutamente una funzione interscambiabile non è che l'udito serva anche per l'equilibrio o l'equilibrio serva anche per l'udito o quantomeno questo è quello che sappiamo può darsi che invece sia diverso in animali inferiori c'è esempio negli uccelli sono stati fatti dei studi che potrebbe essere che in realtà gli uccelli anche in base all'udito riescono riescono a mi è partito Siri appena ho detto gli uccelli anche in base all'udito ma io non ho detto i Siri quindi non l'ho chiamato ho aspettato un attimo che vabbè poi si toglierà e quindi e quindi da questo punto di vista l'unico organo che dà questo input cioè questa informazione è solo esclusivamente l'orecchio interno quello che fa il cervello non è prodursi l'informazione ma utilizzarla per mettere in atto dei meccanismi di reazione non è vero che arrivano input o almeno quello che oggi sappiamo poi parlando degli acufeni ma non è successiva per chi ci sarà o comunque l'avete già sentito dire sembra che ci possano essere delle alterazioni delle modulazioni somatosensoriali dell'acufene derivante da stimoli provenienti dal toccarsi o dai movimenti del collo cose varie magari scopriremo anche che esistono comunque delle modulazioni o forse esistono ma sono modulazioni come per l'acufene non è possibile che si generi l'acufene direttamente per scusate chiudo sta cosa come non è possibile che l'acufene si generi direttamente a livello del collo della mandibola del toccarsi ma semplicemente viene modulato quindi viene perché la mia è filtrato è possibile che ci possesse una modulazione legata al collo alla mandibola o a quello che volete voi per ora ma sappiamo come e che modulo ma sicuramente l'impulso principale il problema centrale nasce dall'orecchio ovvero un'eventuale alterazione degli occhi della mandibola della colonna cervicale dei muscoli e così via non potrà mai generare il sintomo potrà al massimo teoricamente modularlo se un giorno avessimo bisogno di intervenire con altra terapia cosa che oggi per le vertigine non ne sentiamo grande bisogno agendo anche su quei fattori di modulazione li terremo in conto oggi non li teniamo in conto dire che la vertigine può provenire dalla colonna cervicale o dalla mandibola o da chissà che altro corrisponde come a dire che quello che fa la differenza a una squadra di calcio è se il massaggiatore è bravo o quello che porta al caffè arriva puntuale cioè possono avere un ruolo da questo punto di vista il massaggiatore ha un ruolo il chissà che altro ha un ruolo qualunque cosa il preparatore atletico del portiere può avere un ruolo ma non è quello se il giocatore è una schiappa clamorosa tu puoi prepararlo come cavolo ti pare ma la partita non si vince di sicuro quindi ricordatevi il giocatore principale pressoché l'unico cioè il rapporto può essere 100 o 1 se mi manca un labirinto ho un sintomo 100 se mi manca un input o un input alterato a livello di altri di altre sorgenti di input eventuali è uno andiamo a cercare cose che non c'entrano niente andiamo avanti allora questa va bene l'ho messa solamente a scopo di ripresa anatomica ricordatevi appunto due settori diversi e due funzioni diverse che stanno nello stesso costo anche il cosiddetto nervo acustico vestibolare ottavo nervo cranico sono in realtà due nervi che rimangono sempre veramente distinti viaggiano in parallelo ma non si mischiano tra di loro almeno quanto sappiamo ricordatevi che anatomia e fisiologia sono le basi di tutto il ragionamento medico che si può fare dietro se cambiamo qualcosa anatomia e fisiologia ed eventuali scoperte future ci daranno nuove informazioni allora possiamo anche cambiare tutte le varie teorie ma al momento quello che raccontiamo è sempre basato su anatomia e fisiologia dell'orecchio come per ogni discorso che si fa in medicina a cosa serve questo apparato vestibolare cioè se io vi dico a cosa serve avere l'orecchio a fine dell'udito grazie a sentire l'occhio a fine vedere ma perché ci serve un apparato vestibolare cioè perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci informi costantemente della posizione e di quale è l'ampiezza del momento che stiamo facendo le funzioni sono tre primarie una che in realtà me la sono messa a comodità del discorso che sto facendo nel senso che in realtà a che cosa davvero serva conoscerlo cioè avere la percezione cosciente non lo so fatto sta che nella pratica tutti sappiamo se in quel momento siamo inclinati verso un lato inclinati verso un altro se stiamo andando avanti l'esempio tipico è quello dell'ascensore in linea di massima anche se non avete punti riferimento visivi molte volte siete in grado di poter capire se state salendo o state scendendo soprattutto se va molto veloce oppure se chiudete gli occhi e state in macchina e non avete nessun riferimento accanto vi rendete conto se la macchina sta andando avanti o se sta andando indietro o se il treno va avanti o indietro o quello che volete quindi la percezione cosciente dei rapporti del corpo nello spazio grazie all'informazione prima di due labirinti e quella che si è alterata procura la vertigine la vertigine è l'alterazione della percezione cosciente che come vedremo non è creata dal cervello è creata grazie all'informazione che la periferia manda al cervello e lo stesso vale per il diseguito il proprio soggettivo ma altro compito è l'aggiustamento nei limiti del possibile poi vedrete perché questo è nei limiti del possibile della posizione degli occhi per adeguare il movimento della testa se io faccio questo tipo di movimento ma io voglio continuare a guardarvi a guardare lo schermo è chiaro che l'occhio che non è che è come l'occhio di una bambola che si muove insieme alla testa in questa maniera per cui l'occhio se io muovo la testa in questa maniera deve fare un movimento attivo cioè in questo momento non c'è stato semplicemente una passività che l'occhio non si è mosso e la testa si è mossa ma mentre faccio questo cioè una contrazione di questo muscolo rilasciamento di questo muscolo una contrazione di questo muscolo rilasciamento di questo muscolo per far sì che la mia testa gira a sinistra il mio occhio vada a destra se questo lo rapportate a tutti i tipi di movimento capite che cos'è che viene fatto perché nistagmo patologico bifasico cioè Raffaele Nubi vorrei farglielo dire a lui che è specializzando in audiologia e quindi ci capisce tecnicamente però ve lo spiego io perché il nistagmo non è una patologia il nistagmo è un fenomeno fisiologico qualcuno ti dice dottore io soffro di nistagmo nistagmo è qualcosa di fisiologico nistagmo che vuol dire instabilità riferita all'occhio in un certo senso quello significa il nistagmo è il movimento che in questo momento viene fatto cioè la contrazione diciamo in senso che viene fatta dei muscoli per direzionare l'occhio nella posizione opposta rispetto al movimento che sto facendo e poter mantenere lo sguardo su quello che io voglio vedere qualunque momento io faccia ma che è bifasico perché se io faccio questo tipo di movimento oltre a un certo livello io non posso perché finisce l'orbita per cui ecco perché vi ho detto nei limiti del possibile perché cosa succede io muovo la testa muovo la testa muovo la testa l'occhio a un certo punto si arrende mettiamola così non può più continua a seguire l'obiettivo e boom ritorna di scatto ora se io sto fermo e in realtà arriva un'informazione come se io mi stessi muovendo a sinistra ma io non mi sto muovendo a sinistra sapete cosa succede? che l'occhio riceve l'informazione la testa si sta muovendo sta ruotando verso sinistra e l'occhio va verso destra ma oltre un certo livello non può andare lo stimolo continua come se stessimo continuando ruotare la testa e quindi fa questo sostanzialmente si muove in questa maniera ok? quindi che cosa succede? succede che c'è un movimento dell'occhio continuo e allora l'effetto a occhi aperti ma per chi ci sono anche occhi chiusi è quello esattamente equivalente a quando a quello del cinema a quello di fotogrammi che passano velocemente e ci danno la sensazione di movimento adesso tutto è fatto in maniera digitale ma quando c'era il sistema classico con i fotogrammi della pellicola classica del super 8 per intenderci i filmini che si facevano da piccoli il super 8 per quelli che che sono nati nell'epoca del super 8 dei filmini piccoli quelli erano fotogrammi che solamente passati veloce un giochino classico tipico è quello che se voi prendete dei fogli e ci disegnate un omino qui e poi fate tatatatatata muovete i fogli vedete l'omino che si muove sostanzialmente o se vedete delle linee rappresentate su un cerchio un cilindro e lo fate girare velocemente quelle linee vi sembrano un movimento ma sono sempre linee sono sempre immagini statiche questa continua modifica dell'immagine statica è quella che a occhi aperti a occhi chiusi un discorso diverso ci dà la sensazione di vertigine quindi il nystagmo contribuisce alla percezione della vertigine ma attenzione perché la vertigine c'è anche occhi chiusi e quindi è dovuta come detto prima alla percezione cosciente dei rapporti spazio-corpo ma non è solo quello il compito se io mi sto piegando effettivamente verso un lato il corpo deve reagire in maniera tale che il mio baricentro si adegui per evitare di cadere perché altrimenti se io sto così va bene ma se io mi inclino mi inclino mi inclino se non faccio niente necessariamente casco da una parte allora come si fa ad evitare questa caduta nel momento in cui c'è un movimento che viene fatto la testa in inclinazione il baricentro viene modificato mediante variazioni del tono muscolare quindi dal lato dove mi sto piegando aumenterà il tono muscolare per sostenermi di più dal lato contrario opposto si ridurrà al tono muscolare per evitare che io spinga verso quel lato se viene alterato questo meccanismo c'è una vera instabilità e se succede in maniera brusca ci può anche essere una caduta ma notate che non l'ho messo in bianco volontariamente perché l'ho lasciato come forze alcune componenti del disequilibrio soggettivo vi spiegavo prima il discorso della sensazione di peso potrebbero forse derivare anche da questa percezione alterata del tono muscolare cioè nel senso che non mi piacerebbe in futuro studiare se una persona che dice di avvertire il disequilibrio effettivamente in quel momento ha la gamba di un lato più contratta la muscolatura di un lato del muscolo estensione di un lato più contratta rispetto all'altro questo però vale per i muscoli del collo non è solamente i muscoli delle gambe vale per tutto perché se sto facendo questo in qualche maniera io devo sostenere la testa di più da una parte rispetto all'altra ok classificando le vertigini non come oggettive soggettive e tutto il resto ma ai fini in individuazione posi e meccanismo sottostante dobbiamo fare una netta distinzione importante tra il singolo episodio acuto di vertigine la vertigine recidivante con remissione ansitoria cioè una serie di episodi acuti che possono capitare una volta all'anno una volta a settimana una volta ogni ora non stiamo discutendo di quanto tempo c'è e il disequilibrio soggettivo un discorso un po' diverso perché ci potrebbe essere una sensazione permanente o comunque sia continuativa anche se è molto raro che possa essere veramente continuativa di stare in barca di equilibrio soggettivo o ci potrebbe essere una sensazione a attacchi acuti o comunque in ogni caso a periodi il singolo episodio acuto attenzione quando io dico le vertigini sono tutte da idrope io mi riferisco alle vertigini recidivanti perché il singolo episodio acuto di vertigine ci può essere pure per una labirintite io ne ho viste due in vita mia forse tre nel senso perché non sono frequenti oggi le patologie infettive che distruggo il labirinto ma una volta che quel recettore è distrutto poiché i recettori del labirinto sono al pari delle cellule ciliate della parte uditiva sono formati da cellule perenne una volta danneggiate quelle cellule non possono più essere riabilitate sostituite il danno di un recettore è un danno sempre permanente ora qui lo dico e qui lo nego perché in teoria potrebbe siccome ci sono tante cellule che formano quel recettore teoricamente ci potrebbe essere un piccolo danno legato solamente a un danno di piccole cellule ma comunque un danno è e quindi a quel punto di vista un eventuale danno del recettore a me non sia la persona più sfigata del mondo è difficile che se ne presenti un altro quindi io non credo che possa esistere una persona con due episodi di labirintite nello stesso orecchio perché una volta che si è danneggiato il labirinto si è danneggiato il labirinto la vertigine recidivante invece che quindi ha una remissione cioè vuol dire c'è non importa se dura tre ore cinque minuti o quale vuole c'è ma poi per esserci in un'altra quella precedente deve essere passata e per definizione una disfunzione transitoria non un danno permanente perché se ci fosse un danno permanente e poi vedremo prima il discorso vedremo un seguito il discorso riguardo alla gentamicina se ci fosse un danno permanente automaticamente non ci potrebbero più essere vertigini anche i fini curativi questo è un aspetto importante perché la singola vertigine acuta che crea un danno permanente non ha bisogno in realtà di terapia cioè ha bisogno di terapia per spegnere quell'episodio di vertigine per ridare l'equilibrio vero cioè la vera stabilità per togliere la vera stabilità che in quel momento si può essere creata ma la vertigine da singolo episodio da labirintite o da ipotetica nevrite vestibolare che è una patologia che onestamente non so almeno se esista o non esista è fine a se stessa cioè a quel punto io non devo nemmeno preoccuparmi delle recidive allora cosa succede il paziente ha un singolo episodio acuto e gli è già passato al momento in cui mi contatta io non gli faccio assolutamente nulla perché potrebbe non avere mai più un episodio in vita sua potrebbe averlo tra vent'anni non serve nessuna terapia una volta che la cosa si è già risolta c'ha avuto un singolo episodio acuto ma persiste disequilibrio soggettivo beh quello è una componente legata all'idrope c'ha un singolo episodio acuto e persiste vera instabilità non gli posso fare io la terapia devo mandarlo a fare un'eventuale riabilitazione a meno che il cervello non compensi spontaneamente ma infatti io non mi occupo degli apilentiti o di nevriti vestibolari mi occupo di vertigini recidivanti cioè i miei pazienti mi contattano perché hanno diversi episodi di vertigini poi molti ce l'hanno veramente talmente rare che non capisco di che cosa si preoccupino però può capitare che uno ce l'abbia una volta all'anno può capitare come ha avuto una paziente recentemente che ce l'ha tutti i sacrosanti giorni tre ore di vertigini può capitare anche quello quindi non c'è una regola da questo punto di vista il disequilibrio soggettivo è un discorso un pochino particolare perché quello siamo sicuri che c'è una disfunzione che sia transitoria o che sia persistente che non è mai un danno del recettore ma solo una disfunzione transitoria perché l'eventuale danno del recettore mi darebbe la vera instabilità la prima domanda che si fa a un paziente che dice buongiorno dottore sbando è ma lei sbanda davvero cioè la vedono sbandare oppure ha la sensazione costante di sbandamento che non corrisponde in realtà i pazienti ha un disequilibrio soggettivo se li metti su una gamba sola in posizione da ballerina non c'hanno nessun problema stanno drittissimi e non hanno nessuno sbandamento e non c'hanno manco nel camminare non c'hanno manco nel movimento e addirittura non percepiscono più nemmeno lo sbandamento nella corsa ci sono delle patresse particolari ok qui c'è un istas ranzri non si sa che cosa ho scritto perdonatemi le cose devo fare un pochino con la fretta adesso l'unica causa possibile ve l'ho detto già di avere avertigie recidivante o disequilibrio soggettivo cronico è l'idro per le orecchie a terra va bene le affermazioni sono tanto belle ma vengono spiegate quindi adesso io devo spiegare che cosa mi porta a fare questo ragionamento partiamo da chi è che dà l'informazione l'abbiamo già detto prima solo i due labirinti posteriori inviano affermazioni primarie rilevanti al cervello cioè tutto quello vi ricordate il discorso del massaggiatore e dei giocatori tutto quello che arriva ad altri a una funzione supplementare alla loro alterazione da sola non è capace di procurare la vertigine questo è quello che sappiamo il sistema nervoso centrale non è in grado di produrse solo l'informazione ma questo vale un po' per tutto non lo sappiamo se gli acufeni ad esempio possano essere prodotti a essere nervoso centrale non lo escludo ma certamente non è possibile prodursi l'informazione relativa alla vertigine e che succede quando viene distrutto un labirinto e poi il paziente però dopo gli passa il problema perché gli passa perché c'è un meccanismo che si chiama compenso vestibolare che fa sì che piuttosto che ricevere una doppia informazione incongruente se io tolgo completamente un'informazione il cervello ritorna in una fase di congruenza perché riceve informazione da uno solo perché il nostro sistema vestibolare funziona in doppione è come se avessimo due informazioni è come se contemporaneamente io e un'altra persona vi diciamo bianco tutte e due ed è bianco ma se uno vi dice bianco e l'altro vi dice nero non capite più niente è come se avessi due orologi uno al polso sinistro uno al destro che uno vi sta dando l'orario mio del vierter ma uno con la vostra in Italia non ci capite più niente quale è l'ora giusta per cui cosa succede se eliminiamo completamente le afferenze da un lato paradossalmente passa col tempo il problema di stabilità vertigine e tutto il resto perché il cervello si procura l'informazione solo da un lato noi abbiamo tutto in doppione cioè quando io faccio questo tipo di movimento il canale semicircolare di un lato stimola e l'altro si inibisce cioè riduce la sua risposta quando faccio questo movimento tutte e due contemporaneamente mandano uno stimolo e se lo faccio al contrario si riducono se io mi piego verso un lato rimango staticamente così in questa posizione l'utricolo di un lato che è un recettore l'utricolo di un lato riceve più stimolo e l'utricolo dell'altro lato non manda di meno così prosegue il discorso cioè c'è una simmetria di informazione per cui è come se fosse un doppio una doppia informazione che però deve essere assolutamente congruente se arriva l'informazione incongruente tenete presente appunto ho detto prima sui due orologi vi arrivano due informazioni che vi non si capisce più niente sostanzialmente il cervello non capisce più niente non sa come si deve comportare i recettori del binto posteriore qualora danneggiati non trasmettono più alcuna informazione e allora come ho detto prima il cervello si è basato solo sui meccanismi di compenso quindi la vertigine richiede in quanto conseguenza di un'alterata comunque presente informazione derivante dal binto posteriore il fatto che questi recettori siano in grado di informare se non c'è l'informazione se non c'è nessuna informazione non ci può essere un'informazione alterata se io vi do un appuntamento non vi do nessun orario non potete arrivare all'orario sbagliato perché non c'era nessun orario tanto che e lo sanno tutti questo tanto che la distruzione dei recettori o il taglio del nervo o la distruzione del labirinto o fare la giantamicina per distruggere chimicamente i recettori del labirinto che sono sensibili a questo antibiotico che è la giantamicina è proposta come terapia per evitare la vertigine cioè distruggo tutto quanto e la vertigine passa e confermo è vero paradossalmente esiste una terapia molto più efficace della mia in termini di risoluzione dei vertigini ma a parte le conseguenze sull'udito e sul resto non ne riesco a capire la logica io in realtà sulle vertigini è diverso il discorso rispetto a altre cose dove tanto curo l'idro però non posso fare nient'altro sulle vertigini non è vero che esista solo la cura dell'idro perché confermo se uno taglia il nervo la vertigine passa ma se uno taglia la testa passa per i mal di denti io avevo messo tempo fa uno Francesca mi sta ridendo perché si ricorda la chigliottina appunto io avevo messo tempo fa una giochino piuttosto ironica scherzosa sulla pagina maniera poi l'ho tolto dove uno dicevo nel settecento fu inventata un metodo terapeutico che risolveva contemporaneamente i sinusiti i mal di denti i vertigini e tutto fate clic per vedere quale partiva una chigliottina che scendeva giù velocemente per cui teoricamente con quello risolto tutto quanto ora se ragioniamo dicendo c'ho una carie devo portare via il dente oppure respiro oggi male bisogna operare al naso o qualunque cosa va bene d'accordo però quello è un metodo distruttivo che io personalmente ce la faccio faccio l'obiettore di coscienza io un organo che vi voglio così bene come l'orecchio perché mi occupo di quello andarla a distruggere quando è perfettamente curabile scusate non sono d'accordo però non è vero che la mia soluzione sia la più pratica tanto che per un solo caso cioè le cadute brusche senza previso quelle che uno può arrivare a terra sbattere la testa farsi male ed essere anche pericolose io in quei casi non dico al paziente se ce l'ha avuto è più di una non dico al paziente ma no facciamo la mia cura cosa vuoi che succeda se tanto sbatti ogni tanto la testa in quel caso io drasticamente gli dico scusa ma lì dobbiamo prima di tutto preoccuparci della tua vita o dei danni che puoi avere come conseguenze poi tutta più di proteggere il nostro tanto amato orecchio quindi ben venga la distruzione orecchio il taglio nebo quello che dobbiamo fare ma è l'unico caso perché tutti gli altri alla fine sentite io continuo a ripeterlo a tutti quanti io tutti questi problemi a gestire le vertigini non ce li ho nel senso che possono esserci recidive possiamo avere pazienti più difficili ma insomma io non credo che esista un solo paziente che dica a me mi sono presentato da te che avevo un sacco di vertigini frequenti e non mi hai tolto niente non ne cambiava niente non ha fatto nessun effetto la terapia si è fatta correttamente a me non mi è mai arrivato col disequilibrio manco io non ho avuto pazienti che siano stati un totale fallimento quindi non sento proprio il bisogno di fare una cura distruttiva dell'orecchio poi se gli altri riescono a fare quella facessero e come io molto onestamente dico al paziente se uno dice io non voglio stare a perdere tempo con le tue terapie non voglio farci l'acqua e tutto quanto e non voglio recidive ok distruggiti l'orecchio non c'è nessun problema io con i miei denti che cerco di sorridere sempre poco per non farli vedere io col fatto che ho viaggiato per sette anni senza casa in giro nel mondo e tutto quanto ogni volta ho fatto un mal di denti mi sentavo al dentista guardi non c'ho tempo di tornare domani perché magari sarò in un altro paese prenda e porta via il risultato mi mancano sei denti perché ho sempre fatto l'atteggiamento drastico poi mi devo fermare perché se no me li trovo con la dentiera praticamente a relativamente giovane età e qui da questo punto di vista non è sbagliato è moralmente secondo me sbagliato però io non sono d'accordo ma se uno lo vuole fare lo facesse pure poi ricordatevi però che abbiamo detto c'è un'informazione alterata e quell'informazione comunque in ogni caso qualcosa la sta alterando al momento l'unica possibilità che ci viene in mente è che quell'alterazione sia dovuta al fatto che il meccanismo con il quale normalmente vengono stimolati i co-recettori sia alterato come vengono stimolati i co-recettori perché quando io muovo la testa così o muovo la testa così ottengo una risposta o muovo la testa così o faccio movimenti o mi metto in posizione statica perché la posizione del liquido si modifica se io faccio bruscamente questo movimento la testa si è mossa più velocemente o comunque in anticipo rispetto al liquido che si è mosso dal lato opposto per inerzia un po' come se avete presente l'esempio classico che si fa se si fa una frenata brusta il corpo se ne va in avanti bruscamente o se vi tamponano andate in dito bruscamente in questa maniera perché c'è quello che si chiama appunto un'inerzia c'è un movimento di senso opposto e ritardato rispetto al movimento che è stato fatto quindi io mi muovo così cosa succede? che il liquido si è mosso così nel senso che il liquido si è mosso in ritardo e quindi all'interno della testa io mosso e il liquido si è mosso dall'altra parte quel movimento del liquido va a sbattere contro i minati recettori che sono le cupole dei canali semicircolari bla bla non vi so dare dettagli tecnici che non vi servono e trasmettono un determinato tipo di stimolo ma se di liquido ce n'è di più l'inerzia del sistema il peso di quel liquido cambia e quindi cambia anche la risposta del recettore al momento non conosciamo nessun altro tipo di meccanismo c'è ancora però come possibile concorrente di tutto il mondo lì sono veramente l'unico che dice ma che cavolo state raccontando dice che alcuni tipi di vertigini in particolare quelle posizionali poi ci sono i medici che strapolandole portano a tutto possono essere una dispersione di otoliti provenienti del sacco l'utricolo che vanno a sbattere contro la cupola appoggiarsi contro la cupola di questi canali semicircolari può essere la causa dei cosiddetti vertigini da cupolo litiesi o vertigini posizionali questa della cupola litiesi è un meccanismo affascinante che a me piace moltissimo ci posso credere tranquillamente però è qualcosa che fu descritto da un certo Shuknet nel 67 che lo descrisse in questa maniera facciamo una premessa in Italia un po' per motivi religiosi un po' per altro non c'è mai stata la tradizione di abusare del cadavere delle persone per conoscere nel senso che comunque si fa l'autopsia solo quando veramente serve per motivi medico-legali negli Stati Uniti ci sono dei centri come ad esempio la house clinica a Los Angeles sono dei centri che proprio fanno tantissimi prelievi si fanno donare proprio le ossa temporali cioè dove di sede l'orecchio interno per studiare l'orecchio interno anche per fare esperienza con la chirurgia io stesso a mia volta ho operato tantissime rocche pedrose osse temporali di cadaveri per imparare a operare l'orecchio tanto erano cadaveri non lo danneggio a niente io però come imparare operare l'orecchio non ho mai imparato veramente nel senso non ho la sufficienza da candidarmi come chirurgo però nonostante tutto non puoi andare a esaminare veramente veramente bene l'orecchio interno sicuramente non lo puoi fare nel vivo ma con prilievi di cochlea cose varie fermo rimanendo che sono tutti studi post-mortem perché non puoi entrarci al vivo quindi ci sono comunque sia delle modifiche dovute all'eccesso della persona al fatto che non è arrivato il sangue e così via da questo punto di vista ci sono stati fatti numerosi studi su cosa c'è nell'orecchio interno altra cosa che fanno negli Stati Uniti che in teoria erano l'idolo della medicina per me quando ero giovane poi ho capito che probabilmente scusate il termine sono una banda di cazzari per il conspetti peggio di noi dove conta più l'aspetto economico che l'aspetto della ricerca però quello che veniva fatto molte volte era creare in vita di database di pazienti cioè avere dei registri questi pazienti hanno avuto le vertigini posizionali dopodiché andavano dopo morte andavano a verificare effettivamente che cosa hanno all'orecchio e questo Shukunet che era considerato un grande della medicina ha detto testualmente esaminando le ossa temporali del labirinto di questi pazienti che in vita erano registrati come pazienti che avevano avuto vertigini posizionali abbiamo trovato dei depositi basofili cioè che si colorano in una certa maniera all'esame alla valutazione microscopica che effettivamente potrebbero essere otoliti e da lì ha formulato una teoria cioè ha detto vuoi vedere che rimangono adesi questi deliti alla cupola la cupola diventa più pesante modificandosi il peso si modifica la risposta bellissimo credibilissimo è possibilissimo perché no ci sono state fatte modifiche della teoria e così via peccato che a un certo punto io però mi sono ritrovato nei primi anni 2000 fine anni 90 prima anni 2000 mi sono ritrovato nella piacevolissima situazione che essendo un pazzo megalomane che doveva avere tutto tutte le apparecchiature possibili e immaginabili ho preso l'insing sull'insing secondo la formula che spiego anche sul mio sito tanto se non c'ho soldi a pagare porto via le macchine ma non c'ho i pazienti quindi non mi servono se invece c'ho i pazienti c'ho pure i soldi a pagare allora faccio bene quindi io mi ero dotato di cose che non c'aveva quasi nessuno magari già quando avevo pure pochi pazienti pochi pazienti tante apparecchiature e tanta voglia di studiare significava che se un povero malcapitato capitava da me nel 98 2000 cose varie io gli facevo 4-5 ore di visita con esami o 6 ore facendo tutto lo scibile facendo esami uditivi a chi aveva solo le vertigini facendo esami per le vertigini a chi aveva solo problemi di acufene udito e cose varie ma praticamente esageravo nel mio studio quindi però in quella maniera raccoglievo molte più informazioni cosa che non fa nessuno che fanno esami mirati se uno c'ha solo le vertigini non è che gli stanno a studiare le otto emissioni acustiche o chissà che altro e a uno che c'ha le vertigini posizionali esperienze comuni di tutte gli fanno due manovrine fanno qua guardano gli stag ma non fanno nient'altro e mi sono trovato in una situazione che io non ho mai trovato un solo paziente con vertigini posizionali classiche da sassolini da orecchio e cose varie che non avesse anche alterazioni uditive e parlandoci in anamnesi per due ore alla fine dice dottore io le sto parlando solo di queste perché queste sono quelle adesso ma effettivamente io due anni fa ho avuto anche una crisi tre ore vomitandomi l'anima tipo meniero non ho avuto più di una effettivamente sì c'ho anche una cofene ma gli do meno importanza pensavo di avere solo il tempo di spiegarle il sintomo attuale presente ma se si indagava bene alla fine non si capiva manco più chi aveva la meniere e chi non aveva la meniere presi al contrario o chi aveva scusate le vertigini da sassolini presi al contrario i pazienti con meniere uno che si sta facendo crisi di tre ore quattro ore vomitandosi l'anima magari pure tutti i giorni o una volta a settimana manco si pone il problema di quelle vertiginette piccoline che gli sono venute l'anno scorso o che gli capito nei periodi intercritici manco te le racconta ma se tu gli chiedi in maniera specifica scusi ma fuori dalle vertigini classiche lei sa ogni tanto che mentre si mette a letto o quando si gira a letto le partono due minuti un minuto di vertigine che arriva con un pochino di ritardo rispetto al movimento poi effettivamente gira a gira tutto e si calma sì sì quelle certo voglio a quante ce no e quindi insomma fatemi capire tutti sfigatissimi che hanno tutti quanti doppia patologia e tutti che hanno le alterazioni anche della parte auditiva a quel punto ho fatto pure un questionario presente in internet e tuttora presente cioè non influenziamo i pazienti chiediamo la domanda generale ma voi oltre le vertigini posizionali avete altro avete disequilibrio avete fune salite per così praticamente credo che il 2% ha risposto che ci hanno solo le vertigini posizionali e anche a quel 2% se vi facessi l'esame state sicuri che troverei alterazioni molto più diffuse di quelle che i soliti lì potrebbero dare a quel punto ho detto ma questo non può essere tutto da autolitica al massimo posso dare le vertigini posizionali ma non posso dare il resto però aspetta un attimo qui sono io contro il resto del mondo è il famoso pazzo contro mano che dice no non è uno su centomila pazzo sono io a questo punto starò sbagliando qualcosa io guardate che io sembro a volte tanto presuntuoso ma in realtà c'è comunque un enorme continua messa in discussione di quello che io stesso penso che magari potrei sbagliare magari mi sembra così ma magari poi così non è ma questo nella vita privata e nella vita personale io ci provo a dire magari sono io poi se scopro che non si dà il problema non è che posso continuare a darmi le colpe a me o pensazioni sto sbagliando a quel punto ho fatto la cosa più saggia ho detto il pensiero so da dove deriva il pensiero degli altri da dove deriva cioè quali studi sono stati fatti che possono effettivamente confermare e lì apri di cielo mi sono preso tutti gli abstract di letteratura scientifica ci ho lavorato per mesi mai pubblicati da quel famoso del 67 da Shuknet non c'era uno studio era poiché Shuknet è un grande come il secondo lavoro Shuknet ha dimostrato che il terzo ormai tutti sanno che il quarto è ormai sodato che ma sodato cosa cioè nessuno gli unici lavori che si sono posti il problema di dire facciamo una verifica hanno tutti smentito dicendo no non abbiamo trovato quelle stesse alterazioni no non ci sono queste cose qualcuno addirittura ha detto che potrebbe esserci ma non è la causa che in realtà una delle cause dell'idrope ma non mi ricordo dove sta il video ma era abbastanza su youtube abbastanza interessante che in realtà una delle cause dell'idrope potrebbe essere che primariamente si disperdono gli otoliti questi otoliti vanno a formare un pochino come la calcolosi renale vanno a formare un'ostruzione del canale del canale del dotto endolinfatico del sacco endolinfatico dove c'è il rassorbimento normalmente dei liquidi per cui tutto nascerebbe nell'istacco di otoliti e poi questo distacco di otoliti che potrebbe contribuire all'idrope mi sta pure bene potrebbe anche essere tanto non lo posso dimostrare però a quel punto mi sono trovato nella situazione io ho esami ho prove ho valutazioni gli altri non ce l'hanno allora scusate allora ho ragione io anche se sono uno contro centomila e da lì ho cominciato a proporre anche per le vertigini da sassolini e da otoliti visto che tutto non mi è mai piaciuto fare la manovra di Simone perché la manovra quella famosa di riposizionamento perché? perché novantanove no manco magari novanta per cento dei casi li fa un favore al paziente lo fa stare bene però un dieci per cento dei pazienti poi dopo non li tocchi più perché gli hanno scatenato una vertigine molto peggiore di quella che gli scatenava la sua situazione di partenza i famosi sassolini o quello che diavolo aveva nell'orecchio per cui quelli sono pazienti e gli abbiamo creato ancora più problemi psicologici che vivono ancora con più paura della vertigine e vedremo poi ai fini della terapia questo è importante comunque quindi ho spiegato anche questa cosa andiamo avanti io intanto Francesca ammetto uno che tu non stai mettendo allora andiamo avanti cosa conferma la diagnostica strumentale adesso io non faccio più nessun tipo di esame diagnostico ma le ho fatti per anni e sono quello che ne ha fatti più di tutti addirittura ci sono adesso degli esami che ancora nessuno fa e che io ho finito di fare quindici anni fa io non ho capito se la gente dorme o no non mi sono inventato anche qualcosa se ho fatto inizioni modifiche ho semplicemente preso 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 una parte tra l'altra esattamente come adesso non è che mi intenda molto di queste cose ma è come dire a un certo punto che uno fabbrica i bottoni l'altro fabbrica i tessuti e lavorano insieme per creare le camicie dove serve il bottone dove serve il tessuto se io mi limito a dire no poiché io non c'ho i bottoni faccio solo le camicie senza i bottoni poiché io non c'ho il tessuto faccio solo i bottoni senza camicia non arrivo da nessuna parte quindi ho scopiazzato dalla Francia ho preso dall'America parlando anche varie lingue ho rubacchiato a sinistra e destra perché era una diagnostica vera e propria io ho trovato una situazione ad esempio in Francia in quegli anni erano anni luce avanti a noi gli diagnostica strumentali dei vertigini facevano le cose che noi ci sognavamo nemmeno in Italia a questo punto di vista perfetto andiamole a copiare paradossalmente oggi io vivo in Vietnam uno dei maggiori esperti in assoluto dell'agnostica vestibolare io ho poi scoperto dopo che ero un vietramita ora che parlo vietramita era Trambawi che è Trambawi se potete fare la pronuncia corretta che è uno che vive a Parigi che era veramente un grosso esperto di diagnostica particolare ma ci sono anche dei centri negli Stati Uniti incredibili però nessuno faceva tutto cioè chi ci capiva di una cosa non ci capiva di un altro chi faceva bottoni non faceva i tessuti alla fine ho detto scusate ma io prendo i bottoni da uno prendo i tessuti dall'altro e sono in grado di poter offrire le camicie e che cosa ho fatto? praticamente i pazienti tra esami uditivi ed esami vestibolari facevano 17 esami diagnostici diversi credo il record sia stato quello addirittura c'erano due giorni interi di hospital che si facevano in certi periodi non so se c'è qui qualche mio vecchio paziente ma due giorni interi dei hospital si facevano perché non bastava manco un giorno perché eravamo distrutti noi e distrutto il paziente ma si studiavano tanti particolari alcune cose le ho messe poi le ho tolte la stabilometria poi lo studio lo studio dell'equilibrio dinamico che era un aggeggio che si metteva sul petto che aveva dei sensori per poter poi la cranio corpografia che non ho mai fatto l'ho creata io con un sistema cinematografico poi si facevano studi della biostimofia torsionale il nistagmo vibratorio il posizionamento di un raggio laser cioè tutto quello che si poteva utilizzare per capirci qualcosa è stato utilissimo a capire non ci farei assolutamente niente adesso se volessi utilizzare proprio i specifici pazienti perché? perché non ho avuto specificità in tutti i pazienti con vertigine in equilibrio soggettivo si trovano alterazioni che interno l'abirinto non ho mai trovato uno ora viene la cervicale sarà una coincidenza ma tutti hanno il problema all'orecchio viene dalla mandibola sarà una coincidenza ma tutti ma tutti non ho mai trovato uno il giorno che trovassi uno direi che c'è una vertigine psicogena perché non riesco a trovare niente ma non l'ho mai trovato non mi è mai capitato in tutti i pazienti di equilibrio soggettivo non ce n'è uno che avesse gli studi specifici per lo tricolo e saccolo che sono poi la sede di origine di equilibrio soggettivo lo tricolo e saccolo sono i recettori che hanno il compito di informarci non tanto sui movimenti di accelerazione angolare per i quali abbiamo canali semicircolari vuol dire i movimenti che sono rappresentabili come parte di un cerchio ma sono quelli che ci informano i movimenti lineari avanti dietro sinistra destra alto basso e della posizione statica se io sto fermo così e non faccio nessun movimento chi mi sta informando in questo momento ma sì probabilmente ci saranno anche delle minime informazioni che arrivano dei fusi neuromuscolari della tensione del collo ma prevalentemente mi informa il fatto che da questa parte l'utricolo è più stimolato e da questa parte l'utricolo sta mandando meno segnale quindi il cervello riceve un'informazione che rappresenta la sua posizione la posizione della testa rispetto al corpo in tutti i pazienti con altervertigia e equilibrio si trovano detto prima anche alterazioni estremacocleare sia nei pazienti con menier sia nei pazienti con vertigini classiche sia con quelle di qualunque con il disequilibrio altra cosa quasi dappertutto l'esame classico del labirinto e lo studio con l'acqua calda e l'acqua fredda del labirinto che non serve è stato il primo esame che ho abbandonato perché non serve assolutamente a niente perché ci dà un'informazione del momento totalmente transitoria non è vero assolutamente che ci permette di dire c'è stato un danno permanente oppure no a parte che ve l'ho detto prima già la clinica ci aiuta c'ha già i sintomi e se quello c'ha le vertigini decidivanti non può avere danno permanente altrimenti non l'erbe più non posso dire il labirinto non risponde questa è l'assolutità della medicina Raffaele lo dico anche per te che per commenti abbiamo fatto l'altro giorno sulla assolutità che si dicono questo è il problema questo è il problema visto che sei medico visto che stai specializzando in questo settore perché quello è il problema le cavolate io le faccio dire a tutti ma me le dovete spiegare ogni nulla è vera cavolata ognuno potrebbe avere un'idea che magari invece può essere un contributo ma magari devi spiegare come sia congruente se il tuo labirinto non risponde più hai avuto un danno permanente quindi quella è la causa per la quale ti parte ogni tanto uno stimolo del labirinto che ti dà le vertigini a che vuol dire è un'incongruenza totale impossibile a quel punto io sono arrivato a fare la follia avendo due giorni di tempo perché non ripetere quell'esame e l'ho fatto anche per l'impedenziometria per la storia dell'otosclerosi ad esempio perché non ripetere quell'esame oggi e anche domani ma sapete quanti ne ho trovati oggi non c'è nessuna risposta e domani c'è stata risposta alla grande tranquillamente quindi ieri era morto il labirinto e oggi è resuscitato no io ho visto in quel momento una non risposta del labirinto perché qualcosa sta impedendo la risposta corretta del labirinto vedremo poi che no non vedremo perché non lo accenerò qui i miei pazienti c'erano l'area paziente tra le strategie di comportamento per gestire una crisi acuta in atto che io ho fatto anche un ragionamento che cos'è del caldo che fa sì che io ottenga uno stimolo del labirinto e che cos'è del freddo che fa sì che io ottengo un'inibizione nel labirinto tant'è che applicare il freddo all'orecchio può ridurre la vertigine in atto in quel momento la prima cosa che mi viene in mente è che lo sapete tutti quanti il caldo dilata i liquidi in questo caso e il freddo restringe il cubetto di ghiaccio è lo stesso quantitativo di acqua se voi prendete una bottiglia d'acqua la mettete nel freezer dopodiché vedete che si è ristretto perché il ghiaccio è più denso rispetto all'acqua liquida da questo punto di vista ok quindi il freddo condensa il caldo dilata tant'è che il caldo fa elaborare se non vi sono stai a spiegare queste cose poi proprio perché ve l'ho detto prima le alterazioni si trovano in tutti quelli nominati sintomi a questo punto io perché mai dovrei far spendere tempo e denaro la gente a fare gli esami ovvero sono serviti sono servissimi poi in realtà sto fa la volpe l'uva perché se io potessi con un sistema gratuito se i miei colleghi facessero gli esami ma io sarei solo contento perché vorrei fare i piccoli dritti in più perché potrei monitorare magari capire quanto è rimasto di componente ansiosa quanto è rimasto di componente orecchio non è vero che gli esami non si debbano a nulla ma il gioco non vale la candela perché purtroppo gli esami uno non si possono fare perché non li fa quasi nessuno due hanno un costo hanno un costo per trovare dove farli hanno un costo per farli hanno un costo di gestione allora appunto ai fini curativi il gioco non vale la pena poi grazie che se potessi io contemporaneamente essere miliardario avere tutti gli esami con me poterli fare pure a distanza collegando i sensori attraverso internet ma io sarei pure contento di farli ma nella pratica non è in base a quello che faccio la terapia terapia quali sono gli obiettivi della terapia il primo l'ideale è eliminare definitivamente il rischio di futuro vertigio di sicuro soggettivo e qui lo ripeto si può sono io che non voglio farvelo per quello che viene poi dopo e per le alternative che ho ma qui non stiamo parlando dell'acufene dove non si può far sparire l'acufene del definimento magari si può ma non esiste una metodica chirurgica precisa per togliere l'acufene qui si può e non demonizziamolo nemmeno perché probabilmente sono indietro io magari non ho anche messo a punto delle tecniche con la gente amicina che sono capaci di distruggere il labirinto ma senza distruggere l'udito anche se non credo anche perché è molto variabile una cosa o si può fare il taglio selettivo nervo vestibolare o ma l'intervento in neurochirurgia non è una parzelletta o si può fare per qualche motivo questo labirinto ce l'hanno messo per un motivo ora è vero che abbiamo l'altro c'è il compenso vestibolare ma insomma se ci hanno messi due non credo che perché gli avanzava spazio perché sennò ce facevano due cuori due fegati due milse se ci hanno messi due forse ci sarà un motivo forse è importante forse non è vero manco per niente che quello che c'ha un labirinto solo è la stessa cosa perché c'è il compenso vestibolare di chi ce n'ha due e io per quello non ho tanta esperienza perché essendo nato cresciuto avendo lavorato in un'epoca di antibiotici in un'epoca in cui le patologie veramente gravi effettive dell'orecchio gli labirintiti sono molto più rare perché è difficile che il pusta all'orecchio medio arrivi e distrugge l'orecchio interno gli labirintiti virali sono cose molto più relative gli labirintiti circolatori esistono ma non sono neanche tutto questo tranché per cui io non ho tutta questa esperienza di pazienti che hanno avuto con certezza danni permanenti tali da valutare poi se è la stessa cosa rispetto a quello che invece non ce l'ha e ho non ho nemmeno tanti pazienti con gentamicina quelli che ce l'ho sono quelli che gli hanno fatto la gentamicina parziale dicendo ti faccio una cosetta poco poco se vi ricordate se qualcuno sa di cosa sto parlando un certo Macchiavelli scriveva un libro che si chiamava Il Principe dove diceva sostanzialmente se devi essere un bastardo devi esserlo fino in fondo cioè se tu fai il mezzo bastardo se tu fai il mezzo cattivo non va bene o sei cattivo del tutto o non lo sei per niente che si riferiva Cesare Borgia eccetera eccetera ho sentito tutto allora o gli dai giù veramente e usi i dosi ammazza orecchio o il rischio qual è che un recettore magari me l'hai fatto fuori e l'altro no per cui c'hai le vertigine che vengono dal recettore più l'instabilità permanente che viene dall'altro cioè c'ha dei casini che non frescono più quelli non ho visti tanti di gente sottoposta gente amicina di prudenza ho fatta poca per non creare troppi danni con il risultato che poi mi hanno incasinato ancora più la situazione che liberamente posso avere anche sintomi persistenti che io non sono in grado di poter trattare ma il vero trattato completo da me ci viene perché non c'ha più le vertigine a me che non gli venga a promenare l'altra parte qual è invece l'obiettivo di quel che io faccio soprattutto spegnere non soprattutto tutti sono importanti spegnere l'attuale fase acuta e ridurre il più possibile per frequenza durata intensità invalidità le possibili future crisi recidive e questo riesco a farlo veramente quasi sempre tolgo il quasi se qualcuno di voi qui presenti o conoscete qualcuno che dice io ho fatto la sua terapia non hai cambiato niente ai fini di vertigine io non ne conosco di pazienti che si è fallita tutta che l'hanno fatto ovviamente correttamente poi ci possono essere recidive lo sappiamo tutti ne discutiamo in continuazione ma che quella situazione che io trovo di fase acuta io la lascio invariata no ecco perché non sento il bisogno sostanzialmente di trattare con gente amicina o di fare altre cose poi ho anche delle tecniche di gestione e prevenzione che se applicate correttamente funzionano anche abbastanza bene che usano trucchetti che a volte sono stati i pazienti stessi che mi hanno insegnato a parte la cosa dell'acqua che è un'idea mia la posizione dello sguardo la posizione della testa ci sono anche i trucchetti che i pazienti stessi hanno detto dottore però quando ho la vertigine se faccio questo ad esempio il primo errore che fanno tutti non ho parlato per il nestacmo prima è dire chiudo gli occhi perché non voglio vedere la stanza che gira ma quello aumenta ancora di più la percezione di malessere la nausea il senso di vomito che a volte sono poi fenomeni predominanti rispetto alla vertigine quindi una serie di trucchetti che adesso non scende a un dettaglio che permettono di spegnere quella vertigine poi si può agire con una terapia sintomatica o di retraining tra le terapie sintomatiche avevo una cosa eccezionale che era il cerotto alla scopolamina detto trascotto che purtroppo non c'è più in realtà sembra si possa trovare in Svizzera lo faceva la ricordativa non si trova più danni era eccezionale perché teneva cioè truccose utilizzate per gestire la kinetosi erano in grado anche molto di gestire la vertigine cioè ma al di mare era in grado di gestire anche la vertigine ma abbiamo anche la ginnastica vestibolare che nasce e si fa ormai solo esclusivamente per le vertigini posizionali che non saranno d'autoliti ma mica è detto devo per forza trattare le cose da via per l'idro se mi arriva un paziente che alla fine l'unico disturbo è quello io ho un enorme successo facendo di fare esercizi che stanno sull'area paziente a casa se li fa per conto suo se li sa fare correttamente se non si fa prendere al panico che hanno lo scopo di procurare le vertigini allo scopo di insegnare al cervello di non affregarsi di quel piccolo stimolo anomalo che arriva e funzionano benissimo è un'esperienza collettiva quindi ci possono essere i casi dove posso gestire le cose in alcune maniera ma se io lascio aperta la porta alle possibili recidive vuol dire che devo soprattutto lavorare tantissimo sul paziente per ridimensionare l'impatto effettivo della vertigine e della paura perché il vero problema è che se un paziente mi fa una crisi di vertigine una volta all'anno ma poi vive tutti gli altri 264 giorni con la paura di quella vertigine quello è un paziente che sta male comunque quello è un paziente con invalidità derivante dai suoi sintomi che io non posso curare curando l'orecchio ci sono stati anche dei casi che hanno mentito al paziente ha funzionato nel senso casi che sono stati operati tanti anni fa di sacco di non infatti con un po' l'intervento che propone Tal Salvinelli ora comunque lui è modificato ma che esisteva già da una vita e che l'intervento non sono riusciti a farlo in motivi tecnici hanno fatto un test raccontiamogli il paziente è stato operato il paziente ha più vertigini io ho un'esperienza che racconto da sempre a tutti quanti un'esperienza incredibile perché quando ero l'ultima ruota del carro dell'equip di otoneurochirurgia cioè quelli che facevano gli interventi di taglio del nervo e noi eravamo l'unico centro in Italia all'epoca il primo centro a cominciare a fare quei tipi di interventi a Parma dove stavo a Parma io con gli anni io ero proprio l'ultima ruota del carro dell'equip però faccio parte dell'equip partecipavo agli interventi ma avevo anche il compito di gestire il rapporto con il paziente cioè in qualche modo ero quello che conosceva il medicuccio di base dell'equip specialistica cioè quello che conosceva il paziente di più bene noi per motivi organizzativi cosa poco condivisibile ma si faceva così per i siccome avevamo da condividere la sala operatoria avevamo una sola piccola da condividere con la clinica che operava tumori e tutto quanto non si potava fare certamente contemporanea avevamo il sistema di garantirci che il paziente non ci desse buca per garantire il paziente ci darà buca quell'intervento programmato che non è manco tanto breve magari se ne faremo per al massimo due al giorno lo ricoveriamo una settimana prima con la scusa dobbiamo fare analisi del sangue o del genere per cui il giorno intervento è il giorno 17 e noi il giorno 10 già lo ricoveriamo ma poiché eravamo l'unico centro in Italia che faceva quegli interventi noi potevamo accettare di ricoverare solo pazienti che avevano situazioni veramente gravi il criterio era di avere più o meno almeno quattro crisi a settimana ok quindi immaginate di cosa stiamo parlando io oggi manco li vedo più sti pazienti sì me ne è capitata uno adesso ma è abbastanza raro ora i pazienti senza fare nessuna terapia venivano ricoverati solo per fare accertamenti per scaldaletto tenendoci garantito che si sarebbe poi operato il giorno che ce l'avevamo già là pronto che non doveva arrivare anche perché venivano tutte le giorni in Italia quelli venivano ricoverati ora qualcuno probabilmente mentiva pur di essere operato e raccontava di avere delle crisi ma poteva essere per tutti io non ho mai assistito a una crisi di vertigine durante quella settimana di ricovero ovvero il paziente sapeva che andava incontro tra una settimana un intervento definitivo e gli passava già la vertigine poi ve ne racconto un altro al contrario io avevo fatto amicizia con un ragazzo simpaticissimo a tutto quanto che era un mio paziente mi aveva aiutato con amici uscire anche insieme a un tratto la mia amicizia con lui si è guastata a parte del caratteraccio suo si è guastata quando a un certo punto sostanzialmente gli ho voluto provare in maniera inequivocabile come fosse l'ansia il vero problema e non tanto la vertigine lui aveva delle vertigini posizionali e applicando la videonistagmografia cioè quella che ti mostra effettivamente il nistagmo se io gli facevo il movimento gli partiva la vertigine ma se io non facevo il movimento gli dicevo adesso ti butterò giù velocemente e ti procurerò un'intensissima vertigine ma non aveva nemmeno iniziato il movimento partiva nistagmo quindi la vertigine anticipava il movimento solo nel momento in cui rappresentava la paura e lo stress della cosa impressionante ma ne ho visto mica uno ne ho visti tanti però quello mi ricordo un caso più eclatante perché proprio era palese io alla fine gli ho dimostrato il suo classico tipetto figo che era convinto di essere perfetto tutto quanto non poteva nemmeno accettare l'idea sono un nevrotico colossale in quel momento un ansioso clamoroso lui aveva una componente psicogenetale che gli poteva procurare psicosomatica scusate tale gli poteva procurare il mio stagmo e dargli la percezione di vertigine prima di fare il movimento quindi non poteva essere una vertigine a sassolini che stavo muovendo capito? quindi è fondamentale il punto 5 cioè che io debba agire col conselling che poi è la mia assistenza tanto con l'eventuale psicoterapia con i neurofarmaci con l'aumento della resilienza cioè della resistenza allo stress ma è fondamentale che quel paziente che abbiamo deciso di non distruggergli l'orecchio ma di lasciargli la porta aperta dobbiamo trattarlo ma dobbiamo trattarlo anche insegnandogli a dire seppur arrivasse una crisi di vertigine che si spegne per alto in tempo di breve ma chi se ne fotte io faccio una vita normale e me ne frego mi sa sempre posto il problema se dovessi trattare un pilota di elicottero che vada solo o cose del genere certamente quello dovrebbe essere operato se vuole ancora pilotare l'elicottero perché se gli arriva una crisi di vertigine mentre pilota l'elicottero non ha un cambio effettivamente quello va giù perché non è in grado di poter pilotare l'elicottero però altra cosa importante io non ho esperienza tranne un paziente al quale dieti il cretino clamoroso pazzo scellerato io non ho esperienza di pazienti che hanno fatto veri incidenti scusate in macchina non solo perché praticamente c'è quasi sempre il tempo di fermarsi comunque non ho esperienza di di situazioni in cui le vertigini si presentino soprattutto in ambiente non protetto anzi una cosa stranissima è che la maggior parte delle vertigini si presentano a casa in ufficio quelle che ti capino veramente in mezzo alla strada brutte, pesanti sono molto rari alla guida sono rarissime anche perché stai guardando possono capitare ma sono sempre meno intensi che potrebbero capitare altrimenti cioè perfino nel generare lo stimolo che gira il genere la vertigine c'è una componente psicologica e psicosomatica importante cioè non è solo qui il discorso dell'idro per cose del genere ci devono essere dei meccanismi che mettono in stato di preallerta il cervello in grado di poter alterare maggiormente la percezione come se io sto lì pronto sulla linea di partenza della gara di cento metri pronto al momento in cui appena si sente la prima frazione secondo me lo sparo io già scatto quindi come se il cervello fosse uno stato di preallarme da questo punto di vista ecco perché è così importante trattare anche la componente cerebrale c'è poi uno di sintomi cioè il disequilibrio dove questa componente è ancora più importante nel senso praticamente non esiste paziente con disequilibrio soggettivo cronico dove non ci sia anche uno stato di iperattenzione da parte del cervello in fronte del disturbo tanto come esperienza comune a tutti è più mi concentro per cercare di ridurre il disturbo che peggio sto più me ne frego sono impegnato da altre cose distratto da altre cose e meno ha perso il fastidio questo mi fa capire già da soli quale è il ruolo del cervello tanto che mentre per le vertigini vere e proprie rotatorie l'attacco acuto classico io molto spesso ho sentito risultati anche solamente con la dieta e anche perfino dieta acqua per il disequilibrio soggettivo c'è una differenza enorme in un gruppo di pazienti che io tratto con dieta acqua senza neurofarmaci in un gruppo di pazienti che tratto con i neurofarmaci cioè trattare la componente cerebrale e liberamente lo sto usando anche come ansiolitico non solo come cura dell'interno in che consiste la terapia molto rapidamente perché non è questo l'obiettivo quando parliamo di terapia delle vertigini sostanzialmente quello che noi facciamo è agire sullo stress sul circolo vizioso stress ormono antidiuretico aumento dei liquidi labirintici che poi generano i sintomi che poi con fattori psicologici e così via quindi la terapia è una terapia multifattoriale che agisce su diversi livelli riassumendo un pochino il discorso al momento io che mi occupo solo di vertigini recidivanti e di disequilibrio cioè teoricamente se mi arrivate con un singolo episodio io non so che dirvi vi dico se sta male ancora dobbiamo fare qualche cosa si deve andare a ricoverare molto spesso perché quando sono male o una benentita stanno talmente male che manco sono in grado di camminare o si vomitano l'anima per giorni ma se state se avete avuto un episodio che è finito io dico non facciamo niente e se invece sono già i miei pazienti e mi chiamano che hanno avuto un nuovo episodio a distanza ad un anno è come se se avessero il primo episodio non facciamo niente cioè ci deve essere un criterio di frequenza degli episodi tale da giustificare la terapia e lì entriamo nel discorso quando è giustificato fare prevenzione quando non è giustificato fare prevenzione che non è obiettivo di questo discorso l'abbiamo parlato con molti pazienti in passato io sto mettendo in atto ho messo in atto dei meccanismi di prevenzione per quelli che proprio vogliono fare di più ma io che ho avuto cinque attacchi di vertigine disequilibrio notevolissimo importante tutto quanto però le vertigine sono state sono state importanti mi sono durate in quarta d'ora anche perché non posso avere il panico di sicuro per la vertigine non mi spavento di sicuro non muore nessuno io ho avuto le vertigine quindi so che cosa vuol dire il sintomo se mi dovesse capitare adesso che stiamo parlando o domani comunque non fare nessuna terapia se mi capita e sta male tutti i giorni certo lo faccio quindi è importante capire questo